Migliaia di anni fa, il dottor Parnassus fece un patto con il diavolo. Silenzio! Non ti interesserebbe fare una piccola scommessa, vero? Per ottenere l'immortalità. Ne è passato di tempo. Ma il prezzo concordato era troppo alto. Gli ho promesso che a 16 anni Valentina sarebbe stata sua. Ora, l'arrivo di un misterioso straniero. Quale prezzo hanno i vostri sogni? Finirà per cambiare le regole del gioco. Signore e signori, il dottor Parnassus! Che stai facendo? Cerco di salvare la vita di vostra figlia, signore! Vuoi salvarla, eh no? Allora alziamo la posta in gioco, che ne dici? Voilà! Voilà! Il premio Oscar Hit Ledger. Christopher Plummer. Johnny Depp. Colin Farrell. Jude Law. Un film di Terry Gilliam. Nulla è per sempre, neanche la morte. Barnassus, l'uomo che voleva ingannare il diavolo. Veneno. Chiara? Un film di Terry Giardin. Di gu follow. Non doveva inganno. Non doveva inganno. Cornppa.